Ai nastri di partenza la 76esima edizione del Festival di Cannes con Chiara Mastroiani, madrina della manifestazione, 11 giorni di proiezione, eventi, feste e momenti business. Il Cannes Market è tra i più importanti al mondo con la presenza di star francesi e internazionali. I film sono divisi in sezioni, i più attesi naturalmente sono quelli in concorso e fuori concorso. Tra i primi quest'anno ci saranno quelli firmati da ben tre italiani, Marco Bellocchio, Nani Moretti, Alice Rockbacher. Tra i fuori concorso, spazio ai cosiddetti filmoni, colossal ad alto contenuto stellare e spettacolare, da Indiana Jones 5 a The Killer of the Flower Moon di Scorsese. Sul red carpet passeranno star del calibro di Harrison Ford, Johnny Depp e Natalie Portman per la gioia di fan e amanti del cinema. Grazie a tutti. Grazie a tutti.